Forse ancora a Crotone non si è capito che una delle aziende che è stata colpita da questa tromba d'aria e che ha avuto danni veramente ingenti. Sì, purtroppo il maltempo e quello che è successo ha colpito anche noi, ci ha colpito anche duramente. Già stiamo venendo da un periodo non proprio erosio dove le difficoltà sia logistiche sia aziendali ci stavano mettendo già in forte crisi, quest'ultimo evento sicuramente non ci fa piacere e non ci aiuta. Cercheremo in tutti i modi di andare avanti come abbiamo fatto sempre con le nostre forze, sperando e questo è l'agurio che mi faccio principalmente di riuscire a mantenere ancora in piedi la struttura e il personale perché onestamente quest'ultimo evento non ci voleva. Danni che fanno capire anche quanto è stata potente questa tromba d'aria? L'evento che si è cagionato ha provocato danni anche alla struttura esterna, a divelto dei muri. Stiamo cercando di fare la conta dei danni perché onestamente c'è una parte dove solo ieri sono riusciti a intervenire i vigili del fuoco quindi stiamo aspettando tutte le procedure del caso per capire se ci sono stati danni anche strutturali alle attrezzature. Speriamo di no, ripeto, perché sarebbe un'ulteriore tegola su quello che già ci è caduto. L'impianto è fermo? L'impianto l'abbiamo dovuto fermare, l'abbiamo dovuto fermare per una questione di sicurezza, abbiamo interdetto le aree, abbiamo cercato di mettere tutto quello che era possibile in sicurezza per salvaguardare le persone, speriamo di riprenderci presto. Quindi non c'è nessun settore di Mida in funzione oggi? L'unico che è rimasto in piedi è la termovalorizzazione perché per fortuna non ha colpito la parte dell'impianto di termovalorizzazione che continua a lavorare, abbiamo fatto un check sugli impianti e finora non abbiamo riscontrato nessun malfunzionamento anche perché siamo molto attenti a questi aspetti, quindi la prima cosa, anche un minimo settore ci avrebbe sicuramente portati a bloccare tutto. Diciamo che sono arrivati anche materiali da altre aziende, vi siete ritrovati qui nel vostro, diciamo nel cortile? Sì, abbiamo trovato tutto il fallout di quello che è stato l'evento del tornado, poi la ricaduta dei materiali che ha preso da altre parti, abbiamo trovato pannelli di pezzi fotovoltaici, lamiere, abbiamo trovato di tutto, l'abbiamo raccolto, l'abbiamo messo da parte, lo stiamo classificando per poi smaltirlo secondo i canoni che necessitano. I rifiuti non sono stati toccati? Assolutissimamente no, per fortuna la parte ha preso le strutture, ha divelto dei muri, ma la parte interna era già messa in sicurezza per i motivi normali di gestione, quindi ringraziando Dio non ha toccato nulla quello della lavorazione normale.